E' stato un nuovo giorno di raid in Siria da parte dell'aviazione russa. Mosca ha ribadito ed ora ci sono conferme da fonti indipendenti sul campo di aver centrato gruppi armati jihadisti, tra cui l'ISIS. Nei giorni scorsi, anche secondo le denunce da parte dell'Occidente, le forze di Mosca erano accusate di bombardare gruppi di opposizione al regime di Assad, ma anche civili. Sarebbe il caso della città di Daira Safira, la periferia di Damasco, dove sotto il fuoco russo sono state distrutte diverse abitazioni civili. Mosca ora conferma di aver colpito 12 siti appartenenti all'ISIS nelle province di Iraq, Aleppo, Hamma e Idlib, tra cui centri di comando, depositi di munizioni e veicoli militari. Al tempo stesso nel paese proseguono gli attacchi dell'aviazione siriana. Le bombe hanno colpito, come vediamo in queste immagini, la città di Duma, vicino a Damasco. Alcuni abitanti portano in salvo dei bambini, che rischiano di rimanere intrappolati nelle macerie.